Radio Bruno in diretta dal festival di Sanremo Amici di Radio Bruno eccoci qui a Sanremo insieme a Ron benvenuto Grazie, ciao a tutti Questa edizione 68 possiamo definirla una serie di coincidenze ma anche un grandissimo ricordo perché la tua canzone è anche la volontà degli eredi di Lucio di far sentire questo testo importante ed è anche un modo per ricordarlo perché è inutile, non riusciamo proprio a fare almeno di lui E beh insomma sì, da quando sei andato siamo stati tutti più soli anche artisticamente per cui quando arriva una canzone così bella, così scritta bene, ma oggi non è così semplice scrivere bellissime canzoni così Tra l'altro credo che sia una di quelle canzoni di Lucio che restano tra le belle insieme a Cara, Tu non mi basti mai, ecco quelle canzoni con quell'intensità incredibile per cui insomma è un onore per me veramente cantarla È un palco importante che emoziona, però immagino ancora di più perché è il testo di Lucio perché comunque avete convissuto tantissimo a livello musicale tu sei stato autore di sue grandissime canzoni, quindi ancora di più c'è, immagino questa emozione Sì, senz'altro, anche se ti devo dire la verità, insomma quando sei sul palco intanto è un palco che vibra, che salta come al solito per cui non è semplice stare tranquilli, per cui devi pensare a stare in equilibrio prima di tutto e poi sai, quando canti delle parole così belle, pensi alle parole, insomma è la prima cosa che pensi è di trasmettere quello che senti, ecco la bellezza Il commento più bello dopo ieri sera? Ma guarda, il commento è un anime, indipendentemente dal fatto che la canzone è bella, eccetera però ecco, c'è stata un'emozione ecco, quell'emozione è arrivata, probabilmente è uscita dallo schermo, è arrivata a casa dalle persone ed è quello che io ambivo di più, insomma, più di tanti altri premi Che proseguirà sicuramente anche venerdì con la voce straordinaria di Alice Di Alice, sì, sì, grandissima, interprete, amica e sono veramente fiero di duettare con lei è un onore per me, ha una storia meravigliosa una donna intelligente, che ha spessore per cui lei è giusta, anche perché è una donna matura per questo testo maturo, insomma, non è per adolescenti insomma, per cui, ecco, sono contento A livello invece musicale, il regolamento Sanremo così senza eliminazione, no? Sappiamo appunto anche l'anno scorso cosa è successo e ci è dispiaciuto tantissimo Meglio così? C'è anche una qualità musicale più alta? Perché c'è più sicurezza? Beh, intanto avverto un Sanremo molto più leggero proprio in generale, è nell'aria proprio, ovunque vai, vedi i tuoi colleghi sono tutti molto tranquilli credo che Baglioni sia riuscito a dare a tutti un senso di giustizia, ecco, per chi fa questo lavoro e questo gli artisti l'hanno recepito molto si sono presentati in tanti, bravissimi, con bellissime canzoni e questa è la cosa bella La cosa bella e quindi con questo ringraziamo tantissimo Ron di essere stato con noi e ti aspettiamo sai che le porte di Radio Bruno sono sempre aperte Yes, benissimo Grazie Radio Bruno in diretta dal Festival di Sanremo in collaborazione con Grissin Bon Modena Giochi Alessara Guesthouse Mondo Convenienza Rosanna Alpi Concessionaria Renaud Franciosi Cornacchini ODS Giocattoli e B per Banca